Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlarvi del significato delle parole Swiss Made. Come potete immaginarvi la scritta Swiss Made non vuol dire assolutamente che un orologio è fatto interamente in Svizzera. Ecco solo una piccola percentuale dei componenti dell'orologio viene effettivamente prodotta in Svizzera. Ecco l'ultima legge che riguarda lo Swiss Made è stata promulgata nel 2017 quindi è stata cambiata anche recentemente. Ecco io vi metto qui sotto in descrizione l'ultima l'ultima legge appunto così potete darci un'occhiata. Ecco voglio subito dirvi che i primi a non voler che la legge dica che tutto quello che viene identificato come Swiss Made deve essere prodotto in Svizzera sono proprio le case di orologeria. Ecco queste case non tutte fra l'altro non non vogliono perché naturalmente i costi sono inferiori soprattutto in Cina o a Taiwan dove gran parte delle degli orologi vengono o delle componenti degli orologi vengono prodotti. Quindi diciamo che se fanno un po' come quelle persone che il giorno fanno finta di litigare e poi la sera vanno a rubare insieme no più o meno ecco questa è la questa è la situazione. Infatti sono proprio queste associazioni di case di orologeria che si oppongono proprio al fatto che questo Swiss Made diventa diventi sempre più stringente. Senza perdere altro tempo andiamo a vedere quali sono le caratteristiche per il quale un orologio si possa considerare Swiss Made. Allora in primo luogo un orologio è considerato Swiss Made se è sviluppato in Svizzera. Che cosa voglia dire sviluppato in Svizzera? insomma non lo sappiamo perché poi di fatto uno come fa a dimostrare che è stato sviluppato in Svizzera e non da un'altra parte. Comunque noi prendiamo per buono questa prima caratteristica. Il suo movimento deve essere svizzero. Ecco ci sono altre cinque caratteristiche che identificano un movimento svizzero ecco e le andiamo a vedere dopo. Il terzo punto è il suo movimento essa è stato incassato in Svizzera e fino a qui non fa una piega. Il quarto presupposto è il controllo qualità viene effettuato in Svizzera e anche qua diciamo che è tutto chiaro. Al punto numero 5 abbiamo almeno il 60 per cento dei costi di manifattura deve essere realizzato in Svizzera. Attenzione in questo 60 per cento dei costi ci sono anche i costi di assemblaggio. Ora i costi di assemblaggio quanto sono? Ecco uno può giocarci quanto vuole no perché può dire questo orologio è fatto in 20 ore 30 ore 100 cioè ognuno ci può scrivere quello che vuole ma andiamo a vedere invece le cinque caratteristiche che identificano il movimento che sono leggermente più stringenti. Allora il movimento deve essere sviluppato in Svizzera e anche qui solito discorso è stato assemblato in Svizzera cioè deve essere assemblato in Svizzera e fin qui non ci piove. Il controllo qualità deve essere effettuato in Svizzera benissimo. Ecco andiamo al punto numero 4 almeno il 60 per cento dei costi di manifattura deve essere realizzato in Svizzera. Solito discorso anche qui c'è l'assemblaggio quanto tempo ci vuole per assemblare un orologio? Non lo sappiamo può essere tanto può essere poco lo dicano loro quindi qui diciamo che questa caratteristica non vuol dire nulla. Ecco al punto numero 5 però abbiamo qualcosa di un po più stringente almeno il 50 per cento del valore di tutte le parti costituenti il movimento deve essere realizzato in Svizzera. Il movimento deve essere realizzato in Svizzera almeno qui in questa caratteristica non ci sono dentro i costi di assemblaggio almeno qui possiamo essere diciamo più seri ecco da questo punto di vista ma attenzione perché qui dice il 50 per cento del valore di tutte le parti costituenti il movimento. Quindi se noi consideriamo qui siamo solo al 50 per cento che in Svizzera vengono fatte le molle di ricarica ovvero le parti oppure le casse le parti ovvero che sono più costose o almeno le casse lo vediamo dopo vengono fatte in parte in Svizzera ma le parti più costose ecco allora possiamo assolutamente capire che alla fine come pezzi come parti ci aggiriamo intorno a un 30 per cento ecco quindi in pratica il vostro orologio swiss made probabilmente ha solo un 30 per cento di pezzi che vengano fatti in effettivamente in Svizzera ma aspettate un attimo perché qua c'è un'altra parte molto interessante ovvero la definizione di componente swiss in made allora anche qui ci sono delle caratteristiche ci deve essere il controllo qualità fatto in Svizzera almeno il 60 per cento dei costi di manifattura deve essere realizzato in Svizzera e fino a qui non ci piove attenzione perché uno potrebbe dire eh sì però il 60 per cento non può essere il 100 per cento di tutti i pezzi realizzati che compongono l'orologio perché ci sono delle componenti che non sono presenti in natura in Svizzera prendo per esempio il caso dei diamanti ecco per farne soltanto un esempio no questi non sono considerati ovvero non sono considerate le parti cioè il costo dei prodotti naturali che non possono trovarsi in Svizzera i costi del packaging i costi di trasporto i costi di commercializzazione il costo per esempio delle batterie nel caso degli orologi al quarzo per esempio per quanto riguarda le casse invece abbiamo una legge un pochino più stringente ovvero le casse cosa quali caratteristiche devono avere per essere considerate swiss made allora devono aver subito almeno una lavorazione essenziale in Svizzera ecco qual è questa lavorazione essenziale o lo stampaggio o la lavorazione a macchina oppure la lucidatura ecco basta una di queste qui tre perché questa caratteristica sia soddisfatta allora deve essere assemblata in Svizzera il controllo qualità deve essere fatto in Svizzera almeno il 60 per cento dei costi sono stati realizzati in Svizzera quindi attenzione cioè i costi considerando la lavorazione considerando tutto solo il 60 per cento basta per poter dire che la cassa sia made in Svizzera quindi dopo le varie percentuali aumentano quando vi dico che quando arrivano non è perché lo dico io ma lo dicano tanti giornalisti quando si arriva in fondo basta un 30 per cento delle componenti dell'orologio per poter dire che un orologio è made in Svizzera quindi in pratica ecco come conclusione diciamo che non vuol dire nulla ed attenzione il made in Japan che viene utilizzata sugli orologi in Giappone sebbene ora io non ho la legislazione sotto mano ma posso dirvi che più o meno funziona allo stesso allo stesso modo quindi noi alla fine ci possiamo fidare delle aziende che dicono che tutto è fatto in Svizzera o che tutto è fatto in Giappone ma non c'è assolutamente nessuno che ci possa tutelare da questo punto di vista se non per una piccola piccola parte ok io spero che vi sia piaciuto questo questo video che ho fatto ecco commentate fatemi sapere come la pensate a proposito di questo di questo argomento se per voi è importante se oppure se per voi appunto non lo non lo è attenzione con questo non voglio dire che la qualità degli orologi non è al non sia di ottima fattura assolutamente lo sappiamo ci sono aziende in in Cina che sono molto preparate hanno macchinari all'avanguardia quindi assolutamente non sono le stesse aziende sempre cinesi di che producono orologi di bassissimo bassissima qualità però perdonatemi ma insomma è una bella contraddizione il fatto di produrre il 70 per cento delle componenti all'estero e poi insomma volere scrivere swiss made ecco io a questo punto vi saluto come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno e iscrivetevi al canale io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti